Coesione sociale, crescita e innovazione sono le tre linee strategiche su cui si svilupperà la finanziaria 2014 della Regione Toscana, il cui documento preliminare è stato presentato al Consiglio dall'Assessore alle Finanze Vittorio Bugli. Obiettivi fondamentali, il rilancio del sistema produttivo, la tutela del lavoro, il mantenimento per tutto il prossimo anno dei provvedimenti già varati nei mesi scorsi a sostegno delle famiglie, dell'occupazione e del credito alle imprese. C'è poi la parte della crescita basata sulle nuove infrastrutture, tirrenica, due mari, autopaglio, alta velocità, porti, aeroporti e ferrovie, sugli investimenti privati, in interventi pubblici e soprattutto sull'innovazione. Mettere dell'innovazione del sistema che possa rendere la vita più facile alle imprese, metterci in condizione di sfruttare l'ambiente, la salvaguardia dell'ambiente, la salvaguardia del rischio idraulico, la salvaguardia contro la sicurezza sismica, la riqualificazione energetica degli edifici come nuova frontiera anche per lo sviluppo di settori come quello della costruzione dell'edilizia. L'assessore Bugli ha spiegato che la spesa corrente della regione, 1 miliardo e 200 milioni di euro, si avvicina molto al limite fissato dal patto di stabilità, lasciando appena 300 milioni per gli investimenti, che quindi nel 2014 dovranno essere finanziati per lo più con fondi comunitari. E margini molto più ampi per gli investimenti sono stati chiesti con forza al governo nazionale anche dal presidente della regione Enrico Rossi, per creare le condizioni della ripresa. Senza dimenticare il dramma dei disoccupati, 50-60 mila in Toscana, che anche la ripresa non potrebbe riassorbire. Mi domando sinceramente se a livello regionale e poi anche a livello nazionale non è il caso di pensare a piani del lavoro specifici che diano lavoro a questa massa enorme, soprattutto di giovani, ma non solo, che si ritrova a casa senza speranze.